Ciao a me, c'è il vino sull'istruco! Andrea Capirizzi, Andrea ha preso l'appolo, Andrea ha preso l'appolo, l'ha tolta dalle mani di un armario, l'ho fatto l'appolo, il titolo è stato spesso, l'ho fatto il seno che ti volevo metterci le spalle per arrivare. Poi, adesso mi racconto un po' il corpo, per far tutto dalla mano. No, no! No, passala la mano! E' l'unico segretore che amo di questa nostra mano, è un portatore che cercano di colpire il contatto... 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 16 15 15 16 16 Non è che uno non ti dà la maglia perchè sei così, eh? No, lo so! Oh, ma domani! Mangiamo tutti noi! Oh, Anni! Chiara, per lì la mano, se mezzo! Vai in tre quattro! Come sono qui! Come ho, paese al saluto, il Consiglio di portare il Nè che ci fanno andare. Può parla ai indio, può parla ai indio, è un po' di addio. Somma, puoi essere, si traspare. Allora, vieni a trolla. Tornando non è un'ator. Insieme, un'ator. Grazie 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 Grazie